sono ancora io che ho altro che voglio far vedere la mezza però fatto da un punto diverso di pista guarda che qua è una ripresa peccato che prima hai fatto una ripresa laterale guarda che si si vede non suona sì che suona non mi ha suonato guarda dopo hai lo stasionali presa perché è bellissima eh sì 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 sì